Siamo in pizzeria dopo la trasferta sfortunata a Volta Mantovana e con noi Alessandra Ferralini che ci saluta. Allora, prima partita con un andamento un po' irregolare. Molti alti e bassi, altissimi e bassissimi direi. Infatti differenza pochissima probabilmente con le avversarie tranne in qualche momento. Momenti forse più differenza di carattere, di testa in certi momenti. Tecnicamente parlando avevamo una partita lì, quindi proprio dei momenti di vuoto totale in cui abbiamo perso tanti punti di fila e siamo in difficoltà. Abbiamo servito non benissimo stasera? No, troppo facile. Troppo facile, infatti nel momento in cui qualcuna dalle nostre serviva bene, quindi Lisa Scapini che è entrata e ha servito bene abbiamo fatto un bel filotto. Io ho visto i risultati, sono stati tanti 3-0 in maniera abbastanza netta, tranne il nostro. Esatto, è un 3-2. È un 3-2, sì. Adesso giochiamo settimana prossima con Gusago che ha vinto 3-0 contro una squadra al giorno. Eh, ci pensiamo settimana prossima. Ascolta, la tua è stata comunque una buona partita, soprattutto fino al tacco. È abbastanza, sì, sì, sono abbastanza contenta per quello. Certo che... Magari giocare peggio e portare a casa i punti. Esatto, bravo. Forse sarebbe stato meglio così. Allora, ringraziamo intanto Alessandra. Ciao, ciao. Ci vediamo la settimana prossima per la seconda giornata. Ciao.